c'è una litigata da proseguire tra me e lui perché non è finita qui non è finita qui direi di no adesso ci proiettiamo proviamo a proiettarci al futuro perché c'è anche un'altra dinamica che a te forse ti è sfuggita che forse non hai considerato c'entra il prossimo sorteggio ok c'entra la fascia dell'italia ok sai sì a cosa mi sto riferendo ho saputo allora preparatevi ciao e ben ritrovati a tutti ragazzi innanzitutto se vi fa piacere supportare questo genere di contenuti per altre litigate di questo tipo lasciate una marea di mi piace e moce rito ma ripensando a quello che è successo il dibattito si riaprirà molto a breve ok lasciate mi piace supportate i nostri contenuti se siete in quel una grossa percentuale di voi la metà che segue sempre i nostri video ma ancora non ti è iscritto vi chiediamo di farlo fateci questa cortesia so che a voi mi vorrà frega di meno e non vi cambia niente però in realtà è un qualcosa che va anche a vostro vantaggio vi iscrivete attivate la campanella ogni volta che pubblichiamo qualcosa arriva la notifica così rimanete aggiornati poi se il contenuto non vi interessa ovviamente non è che i dovete aprire tutti però ci avete un feed no con tutte le nostre notifiche magari no scoprite contenuti che vi interessano due canali di calcio un extra calcio in descrizione compariranno qui durante il video bene allora anzi e tu dobbiamo continuare il litigio sul fatto che tu continui poi per quanto ovviamente è un suo parere personale che rispetto come io ce l'ho diametralmente opposto e che lui rispetta però ovviamente che poi lo scontro sorge lo scontro nasce perché la provocazione poi veniamo nel sorteggio le fasce andate reaction e via dicendo per quanto tu da una parte anche giustamente dici io non ci voglio ma forse proprio per rifiuto per rifiuto queste prestazioni vergognose della nazionale italiane soprattutto nelle fasi clou no che sia una qualificazione al mondiale anzi che siano due precedenti qualificazioni al mondiale o questa però tu devi guardare anche le occasioni fallite tu devi guardare oh regà poi riguardo al calcio di rigore cioè io rispetto anche chi dice quello è un altro discorso aspetta no però dobbiamo entrare anche in quel merito no rispetto anche chi dice per me rigore non ci stava perché dall'angolazione sembra che Cristante non lo prende manco riguardando attentamente no sport media set sky tutte le state giornalistiche ragazzi c'è un fermo immagine in cui si vede il piede di Cristante che attraversa proprio il piede di Mudrik ma non solo si vede pure in un altro fermo in cui è Mudrik a spostare nettamente in anticipo la pallone su Cristante che lo tocca cioè il tocco di Cristante è successivo per quanto poi tanta gente dice no e me continua a mettere il dubbio dico magari sono io che non so buono a guardare bene le cose però a me mi sembra veramente rigore ragazzi mi sembra abbastanza palese al calcio di rigore al detto anche di quello il nostro parere per lo meno il mio il mio parere è tu non sei riuscito nell'intento no dopo aver fatto quella bella prestazione con la Macedonia come giustamente hai detto te la Macedonia è molto più scarsa dell'Ucraina non è sembrato evidente no tu te li devi mangiare a colazione tu in un modo o nell'altro sei l'Italia c'hai quattro titoli mondiali c'hai due europee alle spalle tu la devi buttare dentro tu non puoi arrivare cioè ti ha detto bene tu sei stato graziato ma a prescindere episodio dubbio era rigore non era rigore ma tu c'hai avuto la fortuna tu c'hai avuto il culo di trovare perché poi parliamo di tecnologie non è la mano dei dios che arbitro non vede arbitro non fischia e sta a posto così e poi si parla per anni della trata e chi se ne frega ti faccio una provocazione su questo in epoca di non tecnologia quel fallo lo avrebbero fischiato 11 volte su 10 sono d'accordo con te perché l'arbitro lo avrebbero nel dubbio non fischia e poi ti richiamano al VAR sono d'accordo con te a prescindere se l'avessero preso meno sì perché è cambiato il metro del giudizio dell'arbitro anche per i fuorigioco in realtà se lascia cuore perché poi si corregge in tiro un corso d'opera io comunque per quanto riguarda il giudizio in generale io ormai sono talmente sfiduciato dalla nazionale nei momenti importanti perché questo era un momento topico della nostra stagione della nostra storia recente che la qualificazione senza tra virgolette patemi senza ulteriori patemi perché non è che non abbiamo sofferto per arrivare a questa qualificazione anzi tutt'altro ma potevano susseguirsi altri problemi altre tragedie che per fortuna in un modo o nell'altro abbiamo evitato per cui aver centrato l'obiettivo mette in secondo piano a mio modo di vedere tutti quelli che sono gli aspetti che metti tu in evidenza e che porti il risalzo sì però tu sei troppo allegriano morigliano in questa precisa situazione cioè non puoi fare secondo me non puoi fare non puoi fare diversamente il mio ragionamento se devi fare 4 punti 4 non hai fatti lo so ok però non puoi giudicare solo quello che è successo tirare il sospiro di sollievo e continua a cercare a decampare alla giornata perché se tu te presenti questo è questa la provocazione da campione europeo così negli ultimi tempi ho capito ma te poti sempre bene da campione d'europa in carica sì no hai peggiorato no no l'europeo hai fatto partite importanti o no non mai capito io dico arrivare a a campare alla giornata in un modo o nell'altro ma ti ha permesso di costruire un piccolo percorso sì ma è stato un processo di crescita dove hai meritato di vincerlo ovvio che hai approfittato dei situazioni però non è detto però stessi dimostrato superiore agli altri assolutamente non è detto però che qualificandoti in questo modo con l'ucraina e in quel girone non ti permetta poi di andare tra qualche mese questa prossima estate a vincere un'altra volta l'europeo io voglio cominciare ad avere certezze non voglio campare a dei renditi ogni volta non è questo il momento per pretendere certezze la provocazione è se te presenti questo atteggiamento all'europeo esci ai gironi per fortuna l'europeo ci stanno altri nove mesi esci ai gironi fabbio mio esci ai gironi non te puoi presentare così però mi sembra un po' prematuro cominci a parlare adesso per me invece bisogna essere anche realisti nel cioè che sia da monito poi io mi fido ciecamente te spalletti è un allenatore che ragazzi ho sempre stimato e apprezzato in tutta la sua carriera che sia di monito che sia di segnale per far sì che effettivamente oggi ti è andata bene da domani non ti puoi più permettere di provare a campare a dei renditi perché che dicevamo prima di questa partita se punti non hai puntato allo 0-0 hai provato a vincere questa partita ma alla fine non ci stavi a riuscire hai fatto già un passo avanti in un'altra occasione non l'hai fatto perché se te davano due rigori perdevi e non ti qualificavi in un'altra volta però all'interno della partita per quanto non sei riuscito un passo avanti rispetto pure un anno fa e rispetto a 5 anni fa quindi mi riferisco a Macedonia del Nord e Svezia che non ti fanno qualificare i mondiali un episodio che ti ha graziato non è un passo avanti quelle partite tu però non le hai giocate cioè capisci dove voglio arrivare io cioè tu le partite non le proprio giochi contro la Svezia fai in 180 minuti il vuoto totale contro la Macedonia del Nord te fai buggerà in un attimo ma invece stanno puntite con il episodio perché poi tu anche se hai creato all'interno della partita si è visto che a un certo punto io che ti ho detto durante la live reaction che poi vedrete probabilmente che la pubblicherò ti ho detto se questa è una partita che al settantottesimo al settantacinquesimo all'ottantesimo porti sullo 0-0 loro non c'hanno più niente da perdere sono loro che stanno fuori all'ottantesimo sei tu che stai dentro sei tu che c'hai da perdere sei tu che c'hai paura Spalletti che ti fa il cambio difensivo te lo fa proprio perché se stava a cacassotto che fai? però capisci qual è non puoi fare diversamente non devi arrivare a quel punto sei l'Italia che sia demonito per il futuro sei l'Italia ma sei questa Italia non quell'Italia che pensi tu però devi cercare di non lo puoi fare adesso sei troppo frettoloso non lo puoi fare adesso non lo puoi pretendere se non ti qualifichi non lo puoi pretendere se fossi qualificato che volevi pretendere? altre bestemmie? bestemmie? ti stai contraddicendo all'interno della stessa frase cioè tu puoi pretendere tutto subito con una qualificazione raggiunta del merda cioè capisci che se tu vuoi fare quello che dici tu tu devi stare al passo dell'Inghilterra nel girone e non lo hai fatto se non lo hai fatto vuol dire che al momento non puoi pretendere nulla ma io voglio pretendere mi sembra abbastanza e non puoi io voglio pretendere adesso non puoi mettete l'anima in pace non puoi pretendere tra 6-7 mesi magari all'europeo si ma tu sei se crea una mafia ma che ti permette ti pretende qualcosa ora non puoi sei tu che ti stai contraddicendo sai per quale motivo? perché tu hai cancellato completamente cioè io sta cosa non capisco da te tu stai a guardare le due mancate qualificazioni al mondiale ma non stai a considerare che tu in quella competizione lascia stare al girone come è andato in quella competizione l'europeo in carica 3 anni fa l'hai vinto tu 2 2 anni fa l'hai vinto 2 anni e mezzo dai l'hai vinto tu sono passati 2 anni e mezzo 2 anni e mezzo del calcio sono un'era geologica l'era geologica ma tu poi lascia stare la mancata qualificazione al mondiale ma l'europeo l'hai vinto tu come posso io non pretendere col cambio allenatore un allenatore che ha vinto lo scudetto poi pretendere di fare 8 vittorie su 8 all'interno di questo giro ma non pretendere 4 punti io ne parlo di partita singola pretendevo di fare 1 a 0 ne chiude la partita se sei passato da vincere europeo fatta e butta fuori dalla macedonia per la qualificazione al mondiale c'è un motivo ma poi la macedonia però l'hai battuta per manifesta superiorità nella partita precedente la batti per manifesta superiorità perché l'italia è comunque l'italia rimane sempre l'italia e la macedonia non era quella macedonia stanno alla frutta loro però l'altra volta stavamo alla frutta noi l'altra volta stavamo alla frutta forse non sapete perché poi il 2 dicembre il 2 reagiremo se ci stai o sai quello che te combino reagiremo in diretta ai sorteggi dell'europeo quindi scopriremo l'italia manca ancora qualche partita sì ancora qualche giusto ecco quindi noi avremmo dovuto vincere per forza contro l'Ucraina per assicurarci la terza fascia la terza e a me sta cosa mi manda in bestia io c'ho una paura questa è una cosa poi la analizzeremo ci sarà tanto tempo e modo ma se tu disgraziatamente per le altre partite che si vanno ad incastrata i risultati che matureranno se tu disgraziatamente te potresti trovare in quarta fascia se tu te trovi in quarta fascia tu sei la peggiore squadra del girone voi non potete immaginare tu ad un europeo ipoteticamente non mi ricordo con che fascia noi che fascia eravamo quando ci siamo nell'ultimo europeo quando abbiamo vinto forse seconda forse prima addirittura sono di una cazzata non me lo ricordo quarta è impossibile ma tu capisci che là potrebbero entrare in gioco già terza fascia già è rischiosa perché due squadre sono più forti di te o comunque sono del tuo livello un girone di ferro una cosa improponibile cioè tu rischi di qualificare tanto europeo da quarta fascia un girone dove sei la più scarsa in un girone improponibile io non me ne ricordo le fasce ma è capace che becchi la Germania sicuro non sta in prima sì sì la Germania sta in prima invece se non mi sbaglio Germania Portogallo Inghilterra Spagna Francia e l'ho detta Inghilterra sì una di quelle è a becchi una di queste sicuro la becchi di seconda fascia becchi qualcuna di pesante di terza puoi beccare comunque una squadra difficile tu di quarta ipoteticamente tu immaginate quello che potrebbe succedere poi sto discorso che ti sto a fare che mi stai a controbattere rifamolo se eventualmente sta in quarta fascia o rifamolo se ti qualifichi da terza fascia ma a te capitano una prima e una seconda fascia di quelle da mettersi alle mani ai capelli poi ne riparleremo là è un altro discorso eh lo so però sono tutti sono discorsi figli di situazioni che avresti dovuto affrontare in maniera differente sì ma i discorsi figli di situazioni che avresti dovuto affrontare in maniera differente risalgono al 2006 tu è questo che non questo è tu che non riesci a capire parla con lui guarda lui è questo tu passi da un eccesso cioè tu pretendi i quattro titoli mondiali sempre e comunque senza considerare che tu so vent'anni che il tuo movimento calcistico è fermo io sto a parlare d'Europa d'europeo e dell'ultimo europeo vinto poi la storia è uguale fate in mezzo nell'insalata e nel mappazzone è uguale è uguale perché se tu oggi siamo questi è perché sono vent'anni che non famo niente non di cazzate ma come no se tu all'ultimo europeo mi fai l'europeo di merda ridicolo vergognoso io oggi ti avrei fatto lo stesso identico non avrei controbattuto mezza parola anzi ma almeno ci avrei messo al carico l'europeo è stata ma non lo puoi ma tu non puoi quindi è stato culo l'europeo l'ha vinto a culo non è stato culo è stato figlio di un breve percorso che abbiamo messo in atto con Mancini e con una squadra che ha assimilato per gran bene per grandi meriti quello che voleva l'allenatore ma poi è finito tutto là altrimenti tu il mondiale l'avresti preso te saresti qualificato e a dicembre e quindi parliamo da un anno fa avresti ingiocato tu il mondiale vabbè tradotto quello che è successo non è una casualità ma poco ci manca l'europeo l'avevamo vinto per una congiunzione astrale che ancora bisogna ben capire diciamola così la fortuna c'ha anche assistito la fortuna di aiutare gli audaci ma questo lo abbiamo detto anche pot a suo tempo eliminazione dal mondiale non mi ricordo quello che ho detto quindi non voglio rischiare non voglio rischiare di essere ambiguo perché poi mi scordi le cose non mi ricordo anche perché parliamo di un anno e pochi mesi di distanza dalla vittoria dell'europeo pure 10 kg di capelli in più sì all'incirca da parte sua ragazzi vogliamo sapere la vostra qua sotto nei commenti vi abbiamo lanciato tantissime provocazioni però io so solo scandalizzato dal fatto che l'Italia non sia in prima fascia da campione d'Europa in carica quello è lo scandalo per me è una cosa quelle sono regole da rivedere di una retratezza infinita cioè praticamente tutte le competizioni UEFA permettono alla vincitrice addirittura al salto in avanti no ma addirittura dalla prossima Champions League è per club e poi chiudiamo il contenuto ti guardano i 5 anni indietro per inserir giusto era così ti guardano i 5 anni indietro però se tu all'interno di quella competizione nel nuovo formato se tu la vinci anzi scusa il mondiale per club addirittura quello il nuovo formato a 32 andrà a vedere le ultime 4 vincitrici della Champions League cioè quindi una squadra che ha vinto la Champions 4 anni fa se qualifia automaticamente per il mondiale per club è l'anno successivo ragazzi perché all'europeo sta cosa non ce ne sta è sempre UEFA UEFA Euro 2024 UEFA lasciate stare nazionale del club ma è la stessa cosa a parte ma parliamo comunque della competizione dell'anno cioè non dell'anno precedente scusatemi ma dell'edizione precedente la competizione precedente è giusto perché non ce ne sta la squadra campione in carica ma in realtà te dovresti qualificare diritto in teoria non so se è mai stato così nella storia ma mi pare ovviamente no addirittura si ti dovresti qualificare per diritto ma almeno non dico tanto fatemi qualificare ok ma la prima fascia se me qualifico ma la devi dà per forza è una cosa che non si può sentire non è perché siamo italiani ma non l'avrei detto da qualunque altra nazione tranne che per Francia e Germania ovviamente ma non è scherzata ma vabbè l'avremmo detto uguale perché è una questione di un'estate intellettuale però ragazzi veramente io non lo so vabbè le provocazioni ribadisco ve le ampiamo lanciate la vostra qui sotto nei commenti ma soprattutto vogliamo sapere secondo voi con questa attuale Italia poi è ovvio che passeranno nove mesi e succederanno tante cose ma da terza o quarta fascia ma do cazzo si profila un brutto si profila da europeo molto molto te ci qualifichi ma parti già non dico sconfitto in partenza ma devi fare una scalata verso il milione che chi vuole essere milionario non aveva dei proprio se non mi ricordo male essendo 24 squadre si qualificheranno anche alcune terze ma un paio no però specialmente e mezzo la Nation non si aspetta non mi cazzate non mi ricordo ma mi sembra che qualche terza si qualifichi forse un paio come dici tu ma qualche terza si deve qualificare per forza io parlo una volta che si fanno i sei gironi perché sono 6 per 4 24 se si devono fare gli ottavi di finale sono 16 squadre e si qualifichino 4 terze ciao